Sfiga e grido con fibra, un pezzo che in un certo senso chiude un dissing di diversi... Abbiamo sepolto l'ascia di guerra dopo tantissimi anni, grande grido, grande broti, voglio bene, abbiamo spaccatissimo... Un saluto a grido, periodi di tensioni, che sono creativi, artistici... Sì, ma non è studiato, nel senso non vorrei che venisse fraintesa la cosa, il pezzo con grido nasce perché io e lui ci siamo risolti in questo momento, poteva succedere cinque anni fa, che poi in realtà è successo cinque anni fa perché ci eravamo già incontrati in studio da Marco Zangirolami e avevamo parlato e chiarito, poi è nata l'occasione di collaborare perché lui ha tirato fuori l'idea per questo pezzone, però avevamo già fatto la pace tempo fa, quindi non è studiata la cosa, e credo che si capisca... Yes!